Questo è un videogioco in seconda persona, quindi la telecamera sarà dietro il protagonista a rompere le coglioni. Il protagonista si giri per dirci quanto le rompe i coglioni. Ok, abbiamo capito. Si comincia il gioco. Hai guadagnato 300 punti di merda. Prima il tasto X per correre. Corri. La telecamera lo deve inseguire. Se non lo trova più, sono cazzi. Quindi è consigliato seguirlo. Oddio, un cattivo. Ehi, tu, un cattivo. Il combattimento. Il tasto X, non lo trovo. Invece no. Perché non possiamo fare la vita. Ah, no! Ah, no! Ah, no! Hai premuto il tasto X, non lo trovo. Sono là in buio! Pronto! Ma non so io se ho la telecamera, bastardo! Ah, non vuole! Se non lo trovo. Grazie a tutti